sono in uno spot molto conosciuto molto bello molto ricco di pesce ma anche molto difficile i pesci sono veramente smaliziati di solito ci vengo d'inverno ho provato adesso perché l'olio è molto alto e questo uno dei pochi posti dove ci sia un bellissimo tiro se ancora penso un sacco di minutaglia vediamo un po cosa riesco a fare ci vediamo primo barbo un sacco di minuti 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 Grazie. 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 Calori spettacolari. Grazie. Grazie. un barbo bellissimo